è solo una parola eccoci qua ragazzi vediamo un po' la restazione a cazzo io farò questo gioco vediamo un po' che non lo tiravo fuori vediamo vediamo un po' intanto siamo alla fine di luglio ora andate in vacanza chi si può permettere io no perché purtroppo mi trovo condizioni abbastanza economiche anche se sono compiute ma non vuol dire nulla che abbia qualche spicciolo per fare vacanze non ce l'ho ovviamente ma va bene così perché comunque ho fatto un sacco di roba vent'anni fa dei periodi buoni periodi belli ecco è troppo alto e quindi anche se non ho se non ho praticamente e passiamo un po' ma che è successo va connect vediamo qualcuno si è sempre ha detto mi sembra ci faccio una mini partita tanto per tenere in contatto questo canale così esistente questa persona mister x e insomma vediamo vediamo facciamo uno start così un po' non ho capito ora ogni tanto va a giocare a questi show anche perché sono gioco un po' gratuiti questi eh vabbè comunque carino carino però insomma niente di eccezionale che c'è nessuno ah no ah sì hello ciao hello ciao 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 hello carino ma niente di eccezionale insomma ecco i giochi video insomma oh vedi ok eccoci ora io devo fare cosa va e no ora non sono certo non posso rispondere che cazzo e che mangia ma vai 5 va non va boh sei in cricata ora non ci sono per nessuno ho da fare sta mini cosa sicché se ce la faccio perché è difficile sto gioco non è così facile come si pensa Foxy Lady la mia canzone ora c'è da fare qua la mia prima giocata del 31 ora c'è da fare qui allora vediamo niente sì bisogna vedere se ce la faccio ma questo non mi ha fatto questa stanza se non mi ricordo ah pezzo di me no qui non ce la facciamo cazzo no si ma che va via no 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 che qua ho sbagliato oh no 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 oh me ne lo che ciò oh qui c'è un modo oh ma da due ce n'ha detto eh ma tre ce n'ha ma questo è difficile no madonna madonna ma guarda questo ma allora posso fare così ma rilancio questa ah ma puoi venire lì come mai scusa non capisco ora non posso eh ora devo fare qui oh quando io mi sono soggiato adesso qualche puttana e devo essere derruta la roba la devo chiudere l'interlo ah qui ancora fa male sto è bene che non può venire qua per fortuna mia madonna ma e c'è lo spadone che cazzo e spada c'ha questo eh ma moglie oh ma quando che vita c'ha questo dio eh sì ma porca puttana eh madonna oh ma dimostrione che ti coso cazzo tanto voglio eh comunque oh ancora oh ma dimostrione che ti coso cazzo madonna c'ho la spada di merda via ora orca puttana oh è morto cazzo allora ce l'ho fatta sì però sono filmato cazzo no e che cazzo faccio questo lo qua io vabbè sì forse questo ma vaffanculo scappo scappo neanche la pozione c'ho ah non c'hanno nemmeno la protezione uriamoci andiamo qui sì ma moglie non c'è verza no a parte c'è qualche cosa lì io avevo 28 vai vai questo mi sembra più però è difficile trovare adesso dove sono lì è difficile ecco stacca non c'è problema ragazzi è durata poco ragazzi game omer game over sbagliato game omer e niente nulla e niente dopo un'altra partita questo è la sgancio e come si fa devi fare un casino per sganciargli perché la sgancio vi saluto fermo l'amministrazione come vedete hanno cambiato tutto e devo cambiare un altro programma per fare le stazioni per fare